oggi tema abbastanza hot diciamo eiaculazione precoce maschile ok problema che attanaglia qualche uomo e ho deciso di scegliere questo titolo perché c'è stata una ragazza che una volta mi ha detto guarda io ero assieme con un ragazzo bellissimo tutte me lo invidiavano tutte lo guardavano mi trattava benissimo mi pagava qualsiasi cosa ma quando andavamo a letto due minuti dopo due minuti era finita la festa ok e lui mi diceva mi piace troppo vai avanti una volta due volte tre volte quattro volte però si è stancata allora sì cosa diciamo di questa cosa allora intanto ovviamente non lo stiamo trattando a livello medico chiaro se effettivamente ma allora guarda secondo me il segreto è capire questo ragazzo per esempio vedi aveva capiva benissimo che la lei della situazione non era soddisfatta però quante soluzioni abbiamo trovato tutte le volte che ci siamo trovati abbiamo chiacchierato qua allora abbiamo detto avete le mani avete la bocca avete c'è mille possibilità di allietare una donna una ragazza così e soprattutto il sai scusa mi piace troppo no basta non lo voglio più sentire cioè vai perché io spero abbia avuto vent'anni no dici in più ecco 30 vabbè giustificato ma rimandiamo a settembre allora come intanto cosa succede come affrontiamo la situazione allora per esempio cercando di donare piacere a lei ad esempio esatto allora prima chiacchierando abbiamo distinto il momento cioè primi rapporti con rapporto contro rapporto consolidato primi rapporti c'è sicuramente più vergogna nel dire mamma mia sono già venuto oppure però voglio dire l'uomo a mio avviso sa sempre quando sta per succedere quindi idealmente potrebbe giocare esci hai le mani e la bocca abbiamo detto giocaci un po di più prima dicevo che per quanto mi riguarda a 40 anni posso dire che non la donna non ha necessariamente la gioco di parole necessità di venire cioè se una donna è stata contenta del gioco può andare bene anche così quindi potremmo anche dire se lei non è venuta ma il rapporto è stato piacevole per una volta può anche non venire ed essere soddisfatta se poi ho notato altra cosa che con l'età l'uomo è in grado di allungare quello che il periodo di durata così mi dicono riescono a controllare se così non fosse ripeto l'uomo può sempre giocare in altri modi è un fenomeno diffuso voglio dire non so tutta con le tue amiche o nelle tue esperienze passate quante volte è accaduta questa cosa qua e di questi uomini che hanno un problema di controllo delle recolazione chiamerei il problema c'è chi viene troppo presto dicendo ti ripeto secondo me io potrei dirti che nella mia vita sono stata fortunata non sono mai dovuta starlico cioè non mi hanno mai detto oddio ma guardando l'orologio nel diradio sono passati che non so cinque minuti non mi è mai successo perché i giochi si sono sempre creati in modo divertente magari idea una potrebbe essere se il rapporto è consolidato se siete riusciti a conoscere bene la lei che avete davanti eccetera ma introducete un giochino cioè sexy toys un sexy andiamo tutti a fare una bella gita su quegli orari non lo so come siamo messi però parlate cioè discutetene e il fatto di mi piace troppo probabilmente paroline di lei su andiamo vai tranquillo divertiamoci potrebbero sì ma eccitare il lui della situazione di più film porno anche anche a maggior ragione potrebbe essere che il lui della situazione dica ma che se lei vuole provare qualcos'altro che così quindi anche il discorso del portato il giochino lei si arrabbia cioè potrebbe essere che lei si offenda quindi di conseguenza provateci a girare intorno diciamo guardiamo cosa dici se andiamo a fare un giro in questo negozio andiamo a fare un giro in questo negozio ci stiamo guardando una cosa su un sito particolare poi per esempio le donne sono curiosissime c'era anni fa adesso non so più se una cioè una specie di rappresentante la valigia rossa ne ho mai sentito parlare no attenzione ah sì sì che arrivava questa signora qua apriva il kit l'avon mi ricordo apriva la valigia l'avevo letto artico sì ma secondo me quella lì vende molto più dell'avon cioè arriva e c'è la paperina vi ricordate che la paperina che sembrava la paperina che usavi nella vasca da bagno oppure il giochino così che secondo me potrebbe essere una cosa carina un san valentino un anniversario ma anche soprattutto se si fa insieme ok direi che è stata veramente una chiacchierata importante però la allunghiamo ancora allora adesso invece voglio capire se questa cosa si ripete sistematicamente quando la donna dice caspita ok adesso però questo questa sorta di chiamiamola bassa performance ok le mani non le usa la bocca non la usa il sex toys non lo pensa eccetera 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 quanto può durare la pazienza femminile allora dirti a darti un quantitativo in mesi magari ti direi questo magari non so risponderti beh più o meno comunque a vita breve lui a si basi e lui della situazione che guardi veramente tanto il cosa succede quando lei esce dal letto prima avevamo detto le coccole dopo si abbiamo fatto le coccole eccetera lei esce comincia un po sbuffare e a dire devo andare a stendere la lavatrice da se fatevi una domanda perché sì è brutto oppure soprattutto secondo lui dice è stato bellissimo partì è stato bellissimo non per me è una diciamo scena drammatica questa è stato bellissimo no non ci siamo ok dai bene perfetto ora abbiamo finito un saluto qui da cristina e giulia ciao